Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Io sono Pietro Monti Bernieri, studente all'ultimo anno del corso di laurea in fisica triennale, ormai sperabilmente a un passo dalla laurea. Consiglio davvero a tutti di iscriversi alle misure, poiché l'elevato rapporto con i studenti ci permette di imparare meglio e con più tranquillità, facendoci sentire quasi come se fossimo a casa nostra. Questo si sente un po' ovunque, dagli esami, ai corsi, ai laboratori, anche alle uscite sul campo. Avere classi di dimensioni così ridotte ci permette davvero di mettere le mani in pasta nella materia che stiamo studiando. Iscriversi all'università è sempre una scommessa sul futuro, ma l'università degli studi delle misure può davvero essere l'asso nella vostra manica.